È stato rintracciato e arrestato dagli investigatori della squadra mobile il presunto responsabile del tentato omicidio dello scorso 2 maggio in via Albona, a Treviso, nel quartiere di Santa Bona. Si tratta di un giovane dominicano, un 27enne incensurato, che quel giorno aveva sparato dei colpi di arma da fuoco contro due connazionali all'ingresso di un condominio. Attraverso una serie di accertamenti investigativi sia di natura tradizionale che attraverso il ricorso alle strumentazioni tecnologiche, si è addivenuti all'individuazione del responsabile che nel frattempo però si era dato alla fuga. La polizia è riuscita a individuare il 27enne a Prato, in Toscana, dove aveva trovato rifugio da alcuni conoscenti. L'episodio aveva causato profonda inquietudine tra i residenti del quartiere anche perché quella sera in via Albona l'indagato aveva sparato per uccidere o quantomeno ferire i due rivali. Ha esploso questi colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo in direzione di queste persone che per fortuna sono riuscite a nascondersi dietro a degli ostacoli fissi, evitando il peggio. Un agguato che il giovane ha messo in atto per futili motivi. Pare che tutto sia nato dallo smarrimento e ritrovamento, successivo ritrovamento di un telefono cellulare. La lite è con i connazionali che ha poi seguito in via Albona, infine il violento regolamento di Conti. Nei confronti del 27enne il Tribunale di Treviso ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare contestandogli il tentato omicidio e il porto d'arma illegale in luogo pubblico.